ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale io sono maxi e questo è un nuovo glitch per entrare nel cinema qualcuno mi dirà ma già c'era abbiamo visto il cinema ok qualcuno l'avrà visto qualcuno non l'ha visto allora ci sono vari cinema e lo santo se io sono venuto in questo e cosa faccio vado ad mettere una macchina qui anche se non la mettiamo lo stesso andiamo a cercare una partita casuale facciamo unisci di a partita casuale e subito dopo andiamo in una missione di un contatto appena accettata la missione del contatto andiamo a premere freccia per entrare nel cinema e ci troveremo a guardare il film adesso dobbiamo solamente aspettare che parta la missione ragazzi e nulla di fatto una volta che è partita la missione andiamo ad accettare la missione si può anche non accettare la missione fare premere cerchio e uscire direttamente a me sta tardando un pochino però comunque quello è il tempo che ci impiega eccola qui si sta avviando la missione e io vado ad accettare la missione e quando andrò a spawnare dopo che avrò accettato la missione mi ritroverò all'interno del cinema niente di più semplice come state vedendo io ho avviato la missione però sono all'interno del cinema la cosa stranissima di di tutto ciò è che quando avviamo la missione lo schermo del cinema rimane bloccato rimane frizzato come come se fosse in pausa allora qui al cinema potrete girare dappertutto io adesso non ho una luce sulle armi quindi non vi posso far vedere molto comunque sia potete girare dappertutto l'importante è non avvicinarvi troppo ai bordi perchè altrimenti cadrete e per uscire da da questo basterà uscire dalla missione oppure come ho detto andare sui bordi e cadere niente di più semplice ragazzi lo so questo glitch è un glitch vecchio che tutti avete visto che tutti conoscete però rockstar aveva facciato il vecchio metodo e infatti se provate con il vecchio metodo dentro al cinema non funziona più adesso c'è questo magari qualche nuovo giocatore che non sapeva e adesso a questo modo per entrare nel cinema io riprendo la mia su urano stile sufi di fast and furious e me ne vado e saluto tutti e al prossimo video ciao a tutti ragazzi ciao